Il padiglione del Nepal che tre giorni fa era tutto da finire sono arrivati i bergamaschi sapete i bergamaschi, quelli che hanno in testa il cappello col quotidiano cosiddetto lecco di Bergamo e si sono messi con grande solidarietà a sostituire gli operai del Nepal che sono dovuti tornare e hanno fatto un lavoro pazzesco, è finito, non credevo ai miei occhi Nella parte che ancora non possiamo visitare, che cosa ci sarà? In seconda partita ci sarà il ristorante, la zona di vita al ristorante Per ora i visitatori che cosa possono vedere qui? A parte il discorso dello stupo alla parte bassa possono vedere tutta la parte superiore del padiglione